Applicare due mani di Genio Special di colore bianco, idropittura vellutata, utilizzata in questo caso come valido premier per il caravaggio. Diluire opportunamente Genio Special ed applicare due mani, tra una mano e l'altra, a tendere circa 4-5 ore. Stendere un primo strato di caravaggio con apposita spatola Caravaggio Professional in plastica e lasciare siccare per circa 6-8 ore. Applicare un secondo strato di caravaggio a piccoli tratti di circa 1 metro quadro. Lo spessore dovrà essere leggermente più elevato rispetto a quello della prima mano. Subito dopo, lisciare il caravaggio e seguendo dei movimenti circolari con l'apposita spatola rossa broccato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.